Signore e signori, non solo buonasera e bentornati a MarcoFlaze The World and we do find the links. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato, anzi, meglio, effettivamente, sì, effettivamente iniziato, un giorno 3. Un giorno 3 che continua a prolungarsi, è lunghissimo, senza una missione ancora, o meglio, senza una missione finita tra i Demi, la Game Master. Però, con altre cose, tipo, ad esempio, scopriamo il rapporto tra Joshua e il signor Anikoba. E quindi Joshua ha in realtà un talento, però è quello di vedere effettivamente la gente morta. Tipo Sesto Senso, tipo il bambino Sesto Senso, ma nel senso che lui era capace anche da vivo di vedere quello che accadeva sul piano spirituale. E adesso che ha pagato il suo biglietto per entrare nel gioco, il signor Anikoba lo aiuta. Tanto, lo aiuta a tal punto da fornirgli anche un radar, cosa che ha fornito anche a Neko, tra l'altro. Un radar che permette di rintracciare delle distorsioni, rumori o comunque sia dei problemi, tipo quello del ramen. Quindi abbiamo capito che Joshua, anche se è un po' critico, un po' strunzetto, comunque sia strano, non è un nemico. Quindi le chiamate che sto facendo nelle punte precedenti non erano per questi demoni, ma erano chiamate per Anecomer, il signor H. Abbiamo anche avuto, sì, abbiamo anche avuto un rapido scontro con Bitdemoniaco, Bitdemone anzi. Rappido, anche perché poi è stato subito e andato subito. Abbiamo dovuto capire l'applicazione, invece potete seguire la chat. Vabbè, e dove siamo arrivati adesso? Siamo arrivati, intanto, fatemi riscattare un pochino qua i progressi. Delle spille. Oh, level up di una, level up di... Eeeh, perfetto, quindi si è evoluta e andiamo a vedere meglio per l'appunto cosa fa. E che si è ritirato per i secondi questo qui? Uuuuh, sto con il nemico a comunque distanza e necco si avvicinerà per una fondo veloce. E spinge l'emico. L'evoluzione è ottima. Buono, 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 abbiamo così, portato. Ok, sto tornando indietro. Quindi, dicevamo, in questo terzo giorno senza missione dal Game Master ce l'assimo creata noi la missione, ovvero aiutare questo po... il proprietario del Ramen Don a non essere giusto giocato dal proprietario qua, dell'altro negozio di ramen in... lo Shadow Ramen. Poi tra l'altro, adesso che sto guardando la fila, ma... Ma ciao altri concorrenti! Cioè, insomma, questo ramen l'ha consigliato anche i principi, cioè l'hai fatto, non potete capire. Ma ciao anche a voi! Vabbè, ciao! Vabbè, andiamo avanti, quindi... Andiamo un po'. Partiamo prima con il Joshua. Guardiamo se ci dà qualche consiglio. Allora, aspetta. La guerra del ramen di Dog & Saga. Eh, eh. Che evento esaltante. Ah! Indaghiamo! Va bene, sì, sì, sì. Vediamo se riesco a trovare una voce che riesco a mantenere Frank Joshua, perché... Voglio fare la voce del cartellino, che sia del supponente, però... La carne mi piace. E poi invece lui... Eh, non riusciamo... No, non vediamo se riuscì a fare... Sì, penso di sì, vabbè, vediamo un attimo. Devo fare meglio di quella sottospecie di negozio di ramen. Mi serve qualcosa di nuovo. Qualcosa di fresco. Imprinting. Cosa vi accende dai giovani? De ser... Ah, lo possiamo fare adesso, sì. Eh sì, perché se non sbaglio abbiamo... Liberato qua la mente... La mente scorsa. De ser... Oh, de ser... Oh, ok. Sì! Ci sono! Ed è andato, quindi... Vediamo un po'. Entriamo. Oh, tempismo perfetto, ragazzi! Stavo giusto provando una nuova idea. Assaggiate! È uguale, cioè... No, aspetta. No, penso che sia un po' di... Va bene, non mi ricordo. Vi presento... Un dessert di ramen. Surreale. Delizioso. Già, non è niente male. Complimenti, signore. Eppure... Eppure... Manca ancora qualcosa. Già, lo pensavo anche io. Questi sciocchi esperimenti non risolveranno niente. Forse quel ragazzo tutto in tiro ha ragione. Alla gente Shibuya interessano soltanto le mode. A nessuno interessa il gusto. Ehi, un attimo. Non ci siamo proprio. Il ramen in cui è buonissimo, nessuno se ne accorge. Ma la gente fa la fila di fuori per l'altro posto, indipendentemente dal suo cibo. È stupido. Benvenuto al capitalismo, Neko. Capitalismo? Oh. Ma perché si buttano tutti su un altro posto? Non gli piace nemmeno il cibo. È un elemento di conversazione. La gente cerca sempre qualcosa di più parlare. Vieni, vieni, mangiai. Va bene. Vuoi una storia, non un pasto. Sono solo pecore. Forse è tutta Shibuya. Ah, 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 beh, grazie comunque, ragazzi. Ma io non mi arrendo ancora. Continuerò a cucinare il ramen finché potrò. Se viene qualche brillante idea, fatemelo sapere. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Grazie a tutti 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 Fa Grazie a tutti Non si Grazie a tutti 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 Come sono Grazie a tutti No Grazie a tutti 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 Mostratus Ok, 20% Ah, buono, buono, buono Buono, buono Ciao Ciao Grazie a tutti Oh, maronne Ah, voglio superare questa barriera Allora, portatemi una più sexy C'è il rumore numero 59 È un po' difficile Sì, ma il 59 l'abbiamo già incontrato Oppure, madonna, santa Iniziano adesso a fare le requisite che bisogna contare un certo rumore No, il rumore 59 No, non c'è Ah, vabbè, vabbè Allora lasciamo stare Oh, pure no Allora Una cosa di semplice però No, niente, neanche ce lo dice Buono, bene Andiamo da acico invece Ah, non c'è un altro quiz immagino Eh, come butta giocatori Volete cremini la barriera? Vediamo Allora Riprendete da quest'area da 5 No, facciamo 6 simboli del rumore No Oh, ho, ho, ho Facciamo 10 Sconfidgetene 10 Fatele, parleremo Va bene Va bene Allora Questo è più semplice No Eh, no Per poco non ti faceva la catena 3 Si è più semplice Oh! Wow, no, no no no! Ehm... Oh! Grandiotto! Oh! Te l'ho fatta! Ottimo! Ma non si muovono proprio però eh! Oh! Grande! Grande! Ecco, qua tutti hai ragione! Grande! Grande! Ecco, qua tutti hai ragione! Ehm... Ehm... Eh beh, la due stelle non potete essere altrimenti con una partita così... Bene, vediamo se riusciamo a toccare più... Facciamo una bella faccata finita... Ah, scontastica! C'è di qua... Ma è sicuramente qua, quindi bisogna attendere! Ok, dove sono? Dove sono gli altri? Non la fai... No, non qua! Non qua! Oh, beffè! Anzi, oh beffè! Catena di tre, perfetto! Andiamo, 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 andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Si è sempre, comunque... Divertiti, Neku! Tutti imbecilli! Io intanto mi sto bello comodo e poi intanto... quando ho deciso i... Au! Ok, uno è andato! D'altro la combo di colpi così... No, del... Ecco, poi catena e... E' veramente letale la combo! Ghiaccio, catena e poi d'osso! Veramente letale! E' veramente... Ah! Si sono ribattito la combo di colpi! Ma che ho a testi! Au! 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 Puft! App Participare comcorrata. Fu. Fu. è veramente massacro così quindi in queste cose volevi riprovare a fare il boss materasu proprio che era materasu, era palesemente materasu no strecca vabbè non ci sono non ti piace 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 però si può dire un pochino ah vabbè buoni i camionetti che posso fare meglio benissimo un secondo perché devo sistemare qua un pochino un po' di meno si dai così va benissimo vediamo quanto mancano vediamo si 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 ma non ci dice quanti prima quanti e quando ah ah nooo i die ah 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 easy vabbè con il fatto che se non sbaglio è la catena ad essere è la spilla che dicevo con la catena se non sbaglio è il brand che viene favorito qua è un po' facilino cioè più che altro si combina la grande no solo uno non mi serve da notare che la ragazza qui sta parlando con il tempo vabbè volevo tornare indietro comunque è bello scoprire perché ho letto un attino di proprio un secondo uno dei dei pensieri qua che è la sua principe bene scoprire che principe non è un panfarone come immaginavo all'inizio e soprattutto di se basta quindi via che abbiamo un così tale palato di riconoscere per i famigli vabbè qui è massacro ho tutti i brand in classifica o quasi quindi prepariamoci basta eh se riesco se ne approfitto giustamente oi e level up anche perfetto ottimo oi 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 o o O Sì Così 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 Prendili Cacchio troppi danni per Ma che altro sto pensando adesso? Il principe che aveva comunque un briciolo di anima, anzi, ha capito un briciolo che la ferragni. Non so per quale motivo ve lo sto facendo questa associazione, ma vabbè. Perché lui è ferà anche, ma è ferà con l'anima. Un minimo, al punto che non è che fosse così tanto entusiasta di partecipare al magheggio di Makoto. Ah, io. Ma se non c'è questo problema di esempio, eh? Ok, sì, alla grande. Predictabile. Primaio naturale. Ecco, giustamente adesso mi ricordo di una missione che voleva il magnumon... Eh, adesso mi viene, no? Eh, no, aspetta, forse l'avevo... No, 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 no. Ok, dove... Devo controllare. Ho ma... Avevo magnumon a giù. Quanti magnumon a giù ho? Ok. Aspetta, un attimo. Bello. Magnumon a giù. Ah, va bene, è un pochino. Ma adesso ne ho stasso. Non credo... Non credo... Non mi sto riportando. Vediamo un pochino se questo qui ci fa passare adesso. Dai, faccio passare. Sì, ok, quindi... No, ancora no. Eh, allora 10. Cioè... Lo so che sono 10, però pensavo di essere arrivato... No, quindi mi sa 2 ancora. Vediamo se facendo altri 2. Facciamo un po' bene. Ok, non parliamo neanche. No, ne voglio fare 2 di pira così mi libero subito. Intanto il remix di Calling. Il remix è che ancora non l'ho sentito. Ah, eccolo qui. Sì, finalmente mi hanno scoperto. Prossima fermata. Idol City. Non mi interessa quanto avrò soffrire. Ce la farò. Idol City? Come se è di Calling 5? È diverso. Molto diverso. Oh, 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 oh. Guardi qua. Dovrei avere... Dobbiamo 3 o 2. Ah! Vabbè, ho capito. Facciamo uno alla volta. Ah! Vabbè, ho capito. Vabbè, ho capito. Vabbè, ho capito. Vabbè proprio in un niente si è fatta la battaglia qua In un niente E infatti grado, fermo 30 colpi consensuita Che beh, le catene fanno tantissimo Se poi sono ravvicinate Magari basta paura Voglio essere, voglio controllare Oh, finalmente Barriere eliminata Che violenza Fine iene, grazie, che occhetto carino Ok, stazione, no, stazione no Andiamo all'autostazione Ok Un attimo di pace Sotto passaggio, sì No, non penso che stiamo andando in direzione giusta però Tra l'altro qua è bloccato Perché è bloccato? Accidenti Ma perché voglio andare dal mio vecchio amico Allora, forse di qua No No, neanche di qua Di qua Ma non manco per una guanna E' forse della sezione allora No Vediamo, no Salve di piaci Prova bene Per fare la nostra statua Andiamo alla sezione Ah no, la sezione è negozio Sì, come Cura, cura Vediamo quanto ho qui 50, mi manca poco Eh, però diamine Per un po' di soldi Un po' di soldi Ah, ecco cosa Ah, adesso Ah, era per quello Che non riuscivo a fare Ah, adesso Questa è 15, no? Ok Ok Non ricordo E' giusto per portare, vediamo, forse mi... Non... Vediamo la mappa qui, cosa che dice limitato qua, siamo... No, effettivamente siamo l'unite. Eh, perché è un'altra strada, c'è un'altra strada per salire. Sì, 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 se non spazio. Cioè, perché effettivamente poi sarebbe da andare sopra, ma sopra come che siamo andati l'altra volta? Non ricordo. Forse di qua? No. Ci sarebbe una bella freccia. No, no, no. Adesso ne esce buio, va bene. Vabbè, torniamo indietro. Qui nessuna cosa da fare. Eh, va bene. Via di P-104, perché magari da questa parte forse Dogenzaka di nuovo. Eh, perché no? La cosa principale esce buio. C'è un'altra strada che si è andato. Oh, è un'altra strada di nuovo. Eh, ma mi piace che è un'altra strada di nuovo. Il mio nome che non è un'altra strada di nuovo. C'è un'altra strada di nuovo. Ma quanto c'è? Allora, eehh, Mustratus 3. Ah, ma come 0? Ah, perché è il Mustratus 4. Ecco, adesso ho capito. Allora, vediamo... No, vabbè, lasciamo fare qua. Vediamo il Dragon... Il Dragon Catullo che appartiene a... Ah, ok. Questo è un due spilla e due spilla... Oh, sì! Sì, 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 ma subito, 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 subito. Questo invece è un spilla per segnare spilla a spazio secondario. Quali spilla si attiveranno soltanto se ti reprimo il dito sul pulsante secca? Il pulsante secca che sarebbe, vabbè. Un cento i... Ah, vabbè, proprio... Oh, no, no, no. Perché non era ancora... Ah, un po' di prezzo e capisco perché non si è andato ancora qui. A che prezzi sono? Ma scusate, ma... Eh, grazie per 80... Vabbè. Prendiamolo. Un attimo, vediamo. 2,2, pezzente. Che negozio è questo? No, per esempio, che altro è soso. Ok, quindi... Vediamo. E cacchio! Ma perché non l'ho preso, non l'ho fatto prima! Quindi, eh... Adesso che posso utilizzare 5 spille... Ma le mettiamo, mettiamole delle... No, aspetta, perché... No, no, vediamo. Pardomizzate, ovviamente ci sono le mie caramiche... Le mie caramiche... Eh, eccolo, vediamo. Questo aspetto... Oh, la carica... Sì, 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 la carica, la carica, la carica! Cioè, eh... Sì, 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 sì... Cioè, lo so, si vedeva dalla user interface che c'erano altri spazi, però... Perché non l'avevo ancora provato qui? Ma perché? O forse non si era aperta, è proprio... Non era aperta. Perché alcune zone si aprono... A seconda anche del punto della storia... È un po' un problema, la Piangelic... Vabbè... Ehm... No, palcoscenico non c'entra la fara... Logo in saca... Oh, torniamo a Logo in saca... Ma... Ma ha chiuso proprio! Ma scusate! Ma era... Il RAM, ma... Ma ha chiuso proprio l'altro negozio di... Ma... Ma... Ma no! Non c'è, ma sì, ma... Ma... Ma cacchio, proprio... Se il RAM ne abbassate, numero qui per... Vabbè, più che altro per indicare che si può fittare... Eh sì, ma... Proprio chiuso in... Madonna! Ma povero... Ma... Ma Makoto, povero! Cioè... Se l'è meritato, però... Avanti! Eh, missione questo... Ma... Sì... Ok... Prendiamo un po' di RAM anche, va tanto... Ok, sì... Ok... Ok... Che ci sembra di più, quindi... Oh! Oh! Questo qui c'è anche! Quindi... Quindi, del soltanto l'abbiamo fatto... NUR RAMENISTICO... Consomma questo elemento per potenziare il totale... La sensibilizzazione al 50 circa... Eh, che cacchio! Eh, però... Cosa servono? Eh, vabbè... Intanto continuiamo a prendere... Perché così viviamo almeno al 100% in un negozio... Il nostro caro RAMENDON! Eh, eh... Ci siamo quasi... Ci siamo quasi... Eh? Pollo gigante! Dopo il pollo gigante... Eh... Vediamo cosa che fa... Tra l'altro... Il metallo... Com'è che non ho 5 yen?! Cioè... Ah no... Ehm... Non ho... Mi mancano comunque tre metalli rari... Ma in ogni caso... Com'è che non ho 5 yen?! Ma come... Perché? Questa cosa cacchio è? Torca di quel... Ma cacchio è? Ehm... Senti... Eh... Sebastian, amico caro... Carissimo... Ti abbiamo anche riportato in locali... In locali in Augia... Quindi... Uno sconticino, per favore... Attacco 160! Sì, ma... Ehm... Come si... Come? Cioè, io ho bisogno di quella... Cioè... Io... Ma... Non sono sconvolto, scusatemi, ma... Eh beh, sono le spille più forti... Quindi... Big Bang... Ehm... Allora... Intanto... Compriamo un altro pochino... Così arriviamo... Sì, sì, sì... No... Comunque se mi serve... Oh... 100%! E uno l'abbiamo... Maxato! Aleh! Bene! Tra l'altro devo fare anche un acquisto... Perché quella lì me la... Me la compro ora... E così poi... Non ho problemi... Più che altro... Quindi... 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 Devo... Un po' di soltini... Un po' di soltini... Allora... Che il puntatore... Ogni volta... Va a farsi benedire... Allora... Quindi... Ehm... No... Aspetta... Vediamo un pochino... Sì... Possiamo fare con questo... Sì... Due... Ecco qua... Non ho neanche avuto bisogno di scomodare... La 10.000! Però altre 10 da 500... Sì... Allora... Ok... Sì... Acquistiamola... La... Equipaggiamo... Subito! Andiamo a premere... Eh... Piuttosto lenta... Vabbè... Ma... Te la utilizzi... Ah... Allora... Quindi... Se ho capito bene... Te la utilizzi... Nel senso che... Dopo te non la puoi più utilizzare... Ehi... Ehi... Questa... La voglio provare comunque... Per uno scontro... No... Lo so per capire... Aspetta... Ah... No... No... Che... Cioè... Cretino io a leggere... Che sto leggendo male... Non è che due ore ti utilizzi per... Uno scontro... In totale... No... No... È solamente che ci sono le utilizze... E poi bisogna utilizzarla dopo un po' Ma... Il brutto è che... Ah... 33... In realtà si sta effettivamente... Che si attivi dopo... 33... Che è comunque di una potenza immane... Ma... Attiva quando esattamente? Perché non lo dice quando si attiva? Aspetta... Allora... Quindi... E allora... Non la... Non la... Non la utilizzo per il momento... Non so effettivamente come utilizzarla... Dovrò... Magari cerco... Ecco... Questo magari me lo cerco anche online... Stupatemi se lo faccio... Allora... Giusto per capire... Cioè... Sto riflettendo... Cosa devo fare... Ehm... Come attivarla questa spin... Perché attiva... Non me lo faccio attivare... Quindi... Ehm... Il piano in sala... Vabbè no... Non ho ancora messo... Perciò... Vabbè... Facciamo colchine cosa che non stanno... Poi devo vedere un pochino... Come effettivamente... Ho fatto bene comunque... A venire al... Ramen... Al... Ramen Don... Però... Il problema è che... Non sta effettivamente... Dove si è fatto più andando... Aspetta un attimo... Ho questo problema... Dove se va? Dove se va? Dove se va? Ok... Ehm... Doganzaka... No... Poi qua siamo già andati... Ehm... Mi sa che ci sono già andati... Ehm... Però... Forse non è riuscito a fare... Ehm... Quindi... Ehm... Ehm... Aspetta... Allora... Un secondo... Ricordiamoci... Facciamoci ricordare... L'aggianza... Cioè... Andare... Dove ci abbiamo vississimo visti morti... Ovvero... Il segnale proviene da Udagawa? Già... Bisogna risulire Center Street... E superare Tipstito Seoul... Ah... Ecco... Questo ve lo sapere... Center Street... Tipstito Seoul... Udagawa... Udagawa... Cosa è successo là? Quindi... Center Street... E poi Tipstito Seoul... Ma... Center Street... Io ho un brutto presentimento... Che sia la zona... Dell'Imbecille... Guardata dall'Imbecille... La lontaga... Sì... 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 Una... Una... Più secchi... Una sfida... Chiudono le 59... Ah... Ah... Poi... Difficoltà... Facile... A fronte dei rumori... Ah... Ho il tasto di ritrovamento qui... Va bene... Perfetto... Va bene... Ehm... Vediamo un pochino... A dire... Dai... Che facile... Perfetto... Catrini 3... Vediamo un pochino... Se l'ultimo... Vabbè... Forse... Visto che sono nella zona... Dovrebbe... Aiutarlo al minimo... Vabbè... Dovrebbe rispolar raft... просто... Nooo.. Love the �ница per evitare... Vabbè... Qua... C'è... Molto apa tovène... Questa cosa non la troverò male. Sono proprio i nemici di devasto, modalità facile però eh. Questo è proprio il quindi vediamo un secondo rumori quali 59 non doveva verlo ah no 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 ok l'ho trovato ok perfetto quindi vediamo ok mi ha sconfitti i 4 ok quindi a facile la stile più sexy mi dà un tasso di trovamento del 60% e cacchio ma non me l'ha dato ma perché vabbè no vabbè scusate almeno proviamo ad ottenere la stile sexy e poi la più sexy e poi terminiamo quindi dovrebbe essere questo andiamo un pochino avanti così ne prendiamo più di uno e così aumentano le probabilità di poter finalmente no ma perché ma senti ma vabbè se riusciamo a farlo adesso scusate non riesco a fare il certo adesso si è un casino che è un casino ma perché ma perché battaglia del cacchio ma fa niente dai spilla più sexy spilla più sexy spilla più sexy vai su ok ce l'ho fatta oh bene non era difficile in fondo ma si fa seguito le distruzioni mettiamo però normale il casco sempre così ok ok mo faccio i castelli di atto si ah 5.000 grazie vediamo un attino che siamo a mix vabbè vabbè facciamo delle acusate mix e poi basta prima di procedere per Udagawa ok ah cioè sì sì un minimo posso fare vediamo no sì va bene grazie vabbè direi che per questa sera basta così poi tra due settimane dopo la pausa l'atrizia si ritornerà e andremo avanti in questo quanto per andare a Udagawa dove manca tutta la nazione tra l'altro Mila Nimoto a quanto pare ovvero il game master è sparito lui e le sue espressioni algebriche e le sue creazioni domani domani per invece ci sarà la puntata di Katamari Damati è venerdì se tutto va bene si torna su un super smiccola e 2.000 volanti a battaglia contro spiriti di ogni tipo se l'avvento di questa serie vi è piaciuta vedete si vede il canale Twitch spessate un po' di starca se la puntata di questa serie vi è piaciuta votate e iscrivete il canale Twitch se invece volete rivedere le puntate precedenti di questa serie o di altre serie o se siete persone nuove di questo canale e volete scoprire tutte le varie serie o anche solo questa nel modo precedente praticamente cercate YouTube il suo link si può trovare sulla pagina di Twitch se invece volete rimanere in contatto e sarete a prima a sapere di nuove live stream direzioni a conferenze e contatto ci sono le pagine social Marco Place sul Facebook Marco OpenScore Place su Twitter e Marco Place su Telegram tra l'altro i nomi di queste pagine sono anche visibili sull'overlay del video di Twitch per il resto aspetto a tutti per aver visto questa chi è partecipato e ci vediamo alla prossima a